Riesco a farlo partire, perché la cosa è meravigliosa, questa cosa qui è meravigliosa. Giorgio aiutami per far partire il filmato, è partito. Vedete quella vita lì che si avvita? Ha beccato la coda di uno spermatozoo e l'ha indirizzata verso l'ovocida e l'ha fecondato. Forci sono dei tecnici, tecnici che con delle manipoli hanno detto tu rotellina devi girare in senso orario, ti guido, becchi la coda dello spermatozoo e poi io ti guido verso l'ovocida e lo fecondo. Allora, è una cosa meravigliosa da un punto di vista tecnico. Ma forse non sarebbe meglio cercare di capire il motivo per cui con lo spermatozoo non c'è andato da solo verso l'ovocida. O che caratteristiche hanno gli spermatozoi che fanno fatica a muoversi, l'astenospermia. O che caratteristiche hanno gli spermatozoi che sono non normoconformati. Affinché, non per escludere questo, non per escludere le tecniche di procreazione medicalmente assistita, ma per aumentare semplicemente la probabilità che una coppia feconde a casa propria. Uno degli aspetti. Due, migliorando uno spermatozoo, se si riesce, significa riuscire a migliorare lo stato salute globale dell'individuo. Lo spermatozoo è una cellula. È come una cellula di un orecchio. Con la differenza che lo spermatozoo viene lasciato a Milano e deve arrivare a Roma. La cellula dell'orecchio sta lì. Quindi si deve muovere. Quindi ha caratteristiche diverse rispetto a tutte le altre nostre cellule. Allora, questo è quello che noi facciamo quest'oggi. Quindi una valutazione che deve essere fatta, perché la clinica è fondamentale, quindi una valutazione a livello genitale. Come si fa? Come si fa il puntatore qua? Va bene, fa niente. Comunque, valutazione genitale, quindi tutte le caratteristiche delle gonadi, dalla volumetria, la consistenza, la superficie, si fa la valutazione prostatica, tutti gli accertamenti. Questo è il classico protocollo che solitamente viene richiesto a un maschio quando affronta il problema della fertilità. Ma quante volte noi chiediamo che cosa mangi a colazione? Perché se facevamo la prima volta la domanda al paziente cosa mangi a colazione, dici, mi sono brutto per avere un figlio, mica per poi mi fanno la dieta. No, in realtà gli devi far capire che è vero il concetto che tutto sommato siamo anche ciò che mangiamo. Quindi la relazione stretta dell'influenza dell'alimentazione sullo stato globale della nostra salute. E far capire una cosa, che non bisogna affrontare il problema della fertilità, bisogna affrontare il problema della salute globale dell'individuo, perché all'interno di quella c'è anche la capacità fecondante. Dopo focalizzeremo l'attenzione su aspetti specifici che riguardano la fertilità, ma bisogna partire da un concetto molto più ampio. E allora dire che malattia è dovuta a un inadeguato stile di vita, di tipo alimentare, contaminazione ambientale, e quindi da lì nasce l'infertilità. E quindi il maestro Castronovo, che io dieci anni fa andrei a ascoltare una volta in una sua conferenza, che mi aveva lasciato al libito perché non avevo capito niente di quello che diceva, pur avendo praticato la medicina per una ventina d'anni, e parlava della sindrome metabolica. Però io obiettivamente sapevo cos'è la sindrome metabolica, ma non avevo capito proprio un fico secco dopo due giorni che lo stavo ad ascoltare. E lui ci diceva che per poter cercare di riuscire a capire qualcosa dell'individuo lo dobbiamo analizzare sotto questi aspetti. Sotto l'aspetto microbiotico, la funzionalità mitocondriale, la lipidomica, la detossificazione epatica, la capacità immunitaria del soggetto, a livello dell'insulina e glucosio, quindi la parte metabolica e degli zuccheri, tutto quello che riguarda i gofattori, vitamine, eccetera. Quando abbiamo analizzato un individuo sotto questo aspetto, forse riusciamo a fare qualcosa per lui. Non riusciamo ad affrontare ogni singolo aspetto, ma per quanto riguarda i mitocondri, la lipidomica, io direi di sì. Diciamo che i mitocondri, non è che ce li stiamo a raccontare, li conosciamo, sono le centrali energetiche, produzione di ATP, il glucosio, il glicolisi. Allora, i nutrizionisti ci dicono, molti, che bisogna stare molto attenti a mangiare gli zuccheri. Benissimo, e questo è assolutamente vero. Ma quali zuccheri? Allora comincia a nascere il discorso, no, tu sei diabetico, non devi mangiare la frutta, oppure no, devi stare attento, la pasta, devi mangiarne 40 grammi, 50 grammi, eccetera. Ma noi non ci chiediamo quale pasta, che tipo di farina, l'indice glicemico di un alimento piuttosto che un altro. E poi, gli zuccheri sono importanti, fondamentali, il glucosio. Ma facciamo un salto di 500 mila anni indietro. Non era un uomo anche quello che viveva allora. E quanti Oshan c'erano, 500 mila anni fa? Quanti supermercati c'erano? Non c'erano, eppure aveva bisogno di zuccheri. Dove li andava a pigliare questo qua? Per vivere. Ma non per vivere, per uscire a correre, e scappare. Quindi avere energia sufficiente per svolgere le sue funzioni. Da quegli alimenti che disponeva. Ma gli zuccheri dove li troviamo? Nelle bistecche? Li troviamo in tutti quei prodotti che ci circondano laddove ci sono gli zuccheri che a noi servono. Quindi è inutile fare, a volte, degli discorsi estremamente complessi. E' come la questione del latte che ci diceva che bisogna berlo, sto latte non berlo. Bisogna mangiare o non mangiare i formaggi? Ora ditemi solo, i formaggi in natura dove lo trovate? Non si trova. E' un prodotto. Fatto da noi. Non è un prodotto naturale. Quindi non andiamo nello scientismo necessariamente nella scienza. Perché allora c'è il discorso dell'eccessiva concentrazione di calcio e quindi questo provoca una decalcificazione in seguito a un'acidificazione del pH, eccetera, eccetera. Andiamo sul pratico. Il latte è un alimento specie specifico, transitorio e finalizzato. Questo lo sappiamo. Specie specifico l'abbiamo capito perché. Transitorio perché a un certo punto tutti la piantiamo lì di bere latte. E è finalizzato a cosa? Alla crescita di chi? Di quell'individuo al quale è rivolto. Quindi ha delle caratteristiche biologiche ben precise. Tutto questo per dire che deve funzionare questo aggeggio qua di origine di qualche milione di anni fa che si è creato ma dalla quale dipende la nostra vita. E noi dobbiamo studiarlo questo mitocodilo. Dobbiamo cercare di capirlo come funziona. Infatti l'attività cinetica degli spermatozoi dipende proprio da un complesso processo molecolare che comprende sia l'ossidazione dei substrati energetici il metabolismo ciclo dei niclotidi e dalla conversione di un'energia chimica in un'energia meccanica perché la coda è lo spermatozoo cioè da Milano arriva a Roma grazie alla rotazione e ai movimenti oscillatori della coda. Se non avviene questo passaggio qui sotto gli spermatozoi stanno fermi e quindi una valutazione dell'integrità mitocondriale nema spermica si impone quindi dal movimento flagellare quindi per quanto riguarda da proteine che sono motrici che sono le dineine e quant'altro e quindi tutto il meccanismo di scivolamento a livello microtubulare di queste proteine ma anche della sintesi delle dineine è molto importante e associato a questo la produzione di energia necessaria affinché tutti questi meccanismi funzionino tramite glicolisi ciclo dell'acido citrico e la fosforidazione ossidativa che l'abbiamo studiati quando 30 anni fa abbiamo fatto l'università che io però me li ero dimenticati allora vuol dire che l'astenospermia non è un problema dello spermatozoo deve essere o dovrebbe essere considerato un segno clinico piuttosto che una vera e propria diagnosi e può essere dovuto questa ad alterazioni di tipo strutturale alterazioni delle vie metaboliche che forniscono energia e da difetti energetici di tipo genetici e soprattutto di tipo epigenetico le madri un lavoro che risale a una quindicina di anni fa le madri che sono state sottoposte ad una dieta particolarmente ricca di proteine di origine animale e di carni rosse per un periodo di sei mesi precedenti a quello della gravidanza c'è stato un aumento della probabilità del 30% che i figli nascituri maschi fossero infertili e quindi i nutrienti bisogna dare la pappa ai mitocondri affinché possano funzionare questi sono i nutrienti mitocondriali quindi fare una valutazione anche della situazione del soggetto di come è messo da un punto di vista il dosaggio di questi nutrienti è fondamentale e poi gli indicatori dello stress ossidativo concordo con quanto ha detto che la otidrossiguanosina urinaria che adesso non lo vedo non è da considerarsi uno degli indicatori fondamentali però questi quattro parametri ci rendono l'idea se il soggetto si trova in uno stato di stress ossidativo o no perché rame e zin queste legge perché sono i confattori fondamentali affinché la superossido dismutasi e le catalasi possono svolgere la loro funzione l'omocisteina beh l'è stato detto anche nelle relazioni due relazioni fa che l'omocisteina è fondamentale ma non viene mai chiesta invece va chiesta anche perché sappiamo che un'iperomocisteinamia comporta anche una riduzione della sintesi della carnitina e la carnitina sappiamo essere molto importante tutti pensano solo per quanto riguarda il muscolo ma la carnitina è il camion che prende gli acidi grassi e li porta all'interno del mitocondrio e quindi avere valori di omocisteina che non superino gli 8 barra 9 non i 15 i valori che dicono mediamente i laboratori analisi è fondamentale e ora perché la lipidomica perché la lipidomica è questo muro che separa l'ambiente che sta dalla parte a questa stanza quindi l'ambiente intra-destra-cellulare ma soprattutto perché la funzione che la membrana cellulare svolge Spaggiari parlava di campi elettromagnetici della quantistica le onde elettromagnetiche attraversano la materia interferiscono con la materia e quindi il passaggio di un campo elettromagnetico attraverso la membrana cellulare comporta delle modificazioni di potenziale di membrana al punto tale che sappiamo che il potenziale di membrana normale deve essere di circa 70 millivolt una cellula morta muore quando il potenziale di membrana è inferiore a 40 una cellula che è affetta una cancerosa a circa 60 come potenziale 50 60 come potenziale il campo elettromagnetico può se applicato a bassa frequenza quindi a poche tesla può modificare e riequilibrare lo stato di potenziale di membrana ma perché è importante perché la membrana cellulare è quella che permette non solo il passaggio e l'uscita di alcune sostanze fondamentali e questo dipende dalla sua fluidità la cui fluidità dipende dalla composizione degli acidi grassi e quindi il corretto meccanismo delle proteine transmembranali perché se noi all'esterno abbiamo il glucosio abbiamo una proteina transmembranale la membrana essendo fluida quindi che si può muovere apre l'ingresso della molecola chiude e la fa entrare quindi la fluidità di membrana è fondamentale per questo è uno degli aspetti fondamentali quindi la funzione delle proteine transmembranali la quale fluidità dipende dalla composizione in acidi grassi saturi monosaturi e polinsaturi perché dicevo questo? perché anche gli spermatozoi hanno una membrana ovviamente plasmatica però nessuno è andato mai a vedere per esempio la composizione di una membrana di uno spermatozoo rispetto a quella di un'eritrocita perché per almeno 15 anni si studia la composizione di membrana a livello eritrocitario che è molto importante ma siamo sicuri che le stesse proporzioni di acidi grassi che compongono una membrana dell'eritrocita equivalgono alle proporzioni degli acidi grassi che compongono la membrana di uno spermatozoo è questo il dato che fosse interessante l'indagine del perché l'abbiamo detto quindi esiste un test che è il CLMS test la composizione ipinica di membrana dello spermatozoo e vediamo due cose però prima quali sono gli acidi grassi che si devono andare a valutare gli acidi grassi sono questi saturi moninsaturi polinsaturi fra i quali abbiamo gli omega 3 e gli omega 6 e poi gli acidi grassi trans e poi esiste una valutazione quindi il rapporto esistente fra eicosapentaenoico ed occoecosaenoico con rispetto alla quantità degli acidi grassi totali che sarebbe poi l'indice omega 3 che è molto importante a livello soprattutto anche cardiologico perché quando questo rapporto fisiologico è da 7,5 al 10% quando è inferiore al 4% cioè vuol dire che l'EPA e il DHA hanno una concentrazione molto più bassa si ha una probabilità di morte cardiaca improvvisa però di solito nei reparti di cardiologia io non vedo che venga richiesto l'indice omega 3 eppure ha la sua importanza allora e qui c'è un discorso un pochettino complesso però che adesso cercherò di di spiegarlo anche gli acidi grassi saturi sono importanti quindi non è che una persona nella propria alimentazione debba eliminare gli acidi grassi saturi sono molto importanti però la percentuale tra i polinsaturi e gli saturi deve avere una sua logica e soprattutto i derivati finali del metabolismo degli acidi grassi polinsaturi dove sappiamo che dagli omega 3 origineranno l'EPA e dagli omega 6 dovrebbe teoricamente originarsi un diomo gamma linoleico a patto che alcuni enzimi funzionino eccoli qua questo è schematico ma dov'è dov'è il cursore qua che io non lo trovo è quello centrale no Giorgio è il tuo questo aggeggio va beh comunque fa niente allora vediamo gli omega 3 vediamo che ci sono è su in cima ti ringrazio ti ringrazio oh che disastro che sono allora qui vediamo che ci sono degli enzimi che sono presenti sia in questa catena che in quest'altra e gli omega 3 vengono tramite delle desaturasi quindi da 18 atomi di carbonio con 4 doppi legami e tramite delle elongasi quindi c'è un allungamento della catena carboniosa da 18 a 20 atomi di carbonio subentra ulteriormente un altro enzima che le icosa tetraenoico lo trasformi in epa e icosa pentaenoico pentaenoico subentra ancora una delta 6 desaturasi questo enzima viene utilizzato anche degli omega 6 nella trasformazione del gamma linoleico in diomo gamma linoleico come si può osservare che da un punto di vista proprio numerico l'utilizzo di questo enzima è a favore degli omega 3 quindi c'è una sottrazione proprio fisiologica dell'enzima delta 6 dei saturasi che va a favorire proprio questo tipo di di trasformazione di produzione di epe di acido arachidonico e di doico e cosenoico a scapito invece di questa trasformazione che il diomo gamma linoleico si dovrebbe trasformare poi nelle cosiddette prostaglandine cosiddette anti infiammatorie la sottrazione della delta 6 desaturasi comporta la trasformazione del diomo gamma linoleico in arachidonico dal quale acido arachidonico origina per tutte le citochine proinfiammatorie allora capite che è importante riuscire a capire qual è il rapporto epa acido arachidonico che si è stabilito che il rapporto epa acido arachidonico nei limiti fisiologici dovrebbe essere un rapporto di 4 a 1 ok oggi mediamente nella popolazione il rapporto è 1 a 20 quindi vuol dire che cosa vuol dire che ci troviamo in eccessiva produzione di acido arachidonico quindi ci troviamo tutti quanti in uno stato proinfiammatorio e trovarci in uno stato proinfiammatorio non vuol dire che siamo infiammati siamo strainfiammati perché è quell'infiammazione che non sentiamo ma che esiste di quella che parlava prima il nostro collega è quello stato infiammatorio che non è avvertito da nessuno ma è quello che caratterizza poi tutta la patologia cronica infiammatoria e dalla quale poi origino tutte le patologie conseguenti quindi praticamente si vengono a generare due molecole della serie le prostaglandine della serie 2 quindi dei trombosani e della via ciclo-ossigenatica che viene interrotta come sappiamo tutti la trasformazione delle COX-1 dall'aspirina praticamente quindi praticamente si vengono a generare fattori proinfiammatori a differenza invece da EPA e di HA che si vengono a generare le cosiddette prostaglandine della serie 3 che sono protettive anti-infiammatorie è chiaro che una dominanza dell'acido rachidonico comporta un favoreggiamento dello stato infiammatorio questo cosa c'entra con gli spermatozoi c'entra moltissimo perché il metabolismo dello spermatozoi è attivissimo ripeto deve essere depositato a Milano perché deve arrivare a Roma quindi capite quanti substrati ha bisogno e il sistema perossidativo quindi la capacità di poter neutralizzare questi radicali liberi prodotti a livello dagli spermatozoi stessi è più volte superiore a quello del plasma ematico e tutto questo è fornito dalle ghiandole accessorie secrezione prostatica vescicolare e quant'altro quindi il potere di perossidazione che il plasma seminale ha è nettamente più alto che il plasma ematico proprio per contrastare l'eccessiva produzione di radicali liberi è chiaro che però tutto questo deriva da dove deriva questo dall'alimentazione che se facciamo un passo indietro dove troviamo questi e dove troviamo questi negli alimenti gli omega 6 li troviamo un po' dappertutto quindi nei legumi nei cereali li troviamo ovunque ma allora dobbiamo mangiare questi legumi o cereali o no e poi quanti dobbiamo mangiarli primo secondo ma siamo sicuri che il motivo per cui si viene a produrre acido arachidonico in maniera eccessiva è dovuto una decurtazione un prelievo se vogliamo così dire delle delta 6 desaturasi anziani e bambini hanno un deficit di delta 6 desaturasi ad esempio il diabete e quindi l'insulino resistenza il tabagismo l'eccesso di alcol lo stress infezioni virali candidosi diete restrittive digiuni protratti ipertiroidismo sono tutti fattori e senza tralasciare l'implicazione farmacologica riducono la quantità di disponibilità delle delta 6 desaturasi quindi tutti siamo portati a seguire questa via quindi non solo l'alimentazione e tutto ciò anche che ci circonda che ci porta a un aumento dell'acido arachidonico al punto tale che il rapporto omega 3 omega 6 ideale 1 a 5 oggi da 1 a 20 1 a 50 l'epa acido arachidonico l'ideale 1 a 2 e oggi la media 1 a 20 quindi succede questo invece che questo la cellula occidentale produce meno prosti pg1 ma più pg2 la cellula invecchiata produce meno pg1 le cellule cancerose non sono in grado di sintetizzare pg1 ma solo pg2 dobbiamo invertire la tendenza come? voi direte assumiamo più omega 3 e dove li troviamo gli omega 3? nel pesce quale pesce? primo secondo ma siamo sicuri che c'è ancora omega 3 nei pesci? perché se noi badiamo a come si sono formati gli omega 3 del perché si sono formati gli omega 3 perché quando ancora facendo un salto un po' in là nel tempo quando c'era la sostanza in assoluto più tossica sulla faccia della terra che si chiama ossigeno in eccessiva concentrazione i pesci per riuscire a sopravvivere dovevano andare in una zona dove la concentrazione di ossigeno era più bassa e dove quindi in fondo all'acqua il pesce azzurro non è un pesce dove vive nelle acque profonde fredde e profonde per questo motivo e per cui il pesce azzurro era più ricco di omega 3 perché l'omega 3 rende più fluide le membrane supportavano i pesci una maggior pressione e riuscivano a utilizzare al meglio l'ossigeno perché là sotto ce n'era poco quindi vuol dire che il pesce produce omega 3 in seguito anche all'abbassamento della temperatura quindi la temperatura può incidere sulla produzione di omega 3 ma non abbiamo il surriscaldamento delle acque quindi per logica cosa vuol dire che i pesci produrranno di meno omega 3 quindi stiamo attenti perché nei pesci troviamo i metalli pesanti perché le acque sono inquinate e i metalli pesanti sono gli interferenti endocrini quindi non pigliamo tutto il discorso di implicazione ormonale anche sulla fertilità ma allora anche lì vedete allora c'è l'integrazione gli omega 3 li possiamo prendere dagli integratori quali integratori? come fanno ad estrarre un omega 3? dall'olio di pesce benissimo come fanno? tramite un meccanismo di ebollizione ma non abbiamo detto non sappiamo che gli acidi grassi poliinsaturi sono termolabili quindi se io porto una sostanza in ebollizione che contenga l'omega 3 rischio di saturarlo quindi il problema è che io si acquisto l'omega 3 ma non sto mangiando l'omega 3 mi sto mangiando magari una percentuale di acido grasso saturo l'estrazione può avvenire a freddo a freddo per esempio dal vegetale perché i vegetali sono ricchi di omega 3 e quindi forse ho più garanzie allora l'integrazione vedete che è un'integrazione che è necessaria perché purtroppo oggi comunque anche per chi è fautore a mangiare la frutta e la verdura come lo sono io diciamoci che anche quelli sono inquinati anche quelli hanno i metalli pesanti e poi non parliamo del biologico che lo fanno magari i bordi dell'autostrada comunque anche quelli sono inquinati però la differenza comunque tra il vegetale e l'animale è che nell'animale c'è il bioaccumulo nel vegetale un po' di meno perché il metallo pesante viene utilizzato per il meccanismo della fotosintesi noi la fotosintesi non ce l'abbiamo lo accumuliamo nel tessuto adiposo fondamentalmente e quindi essere un po' cicciottelli che può essere molto bello dal punto di vista estetico può essere controproducente che dal punto di vista tossicologico quindi lo stare attenti al peso corporeo non deve essere finalizzato ad andare al mare d'estate bisogna cercare di ridurre la quantità di pannicola adiposo affinché che cosa ci sia una minor interferenza anche sulla funzione della fertilità e non per ultimo il meccanismo aromatasico trasformazione del testosterone in 17 beta stradiolo questo per esempio per un paziente di 35 anni che non era fumatore non seguiva terapie di nessun genere nulla carico dell'apparato genitale 9 milioni di spermatozoi quindi leggermente oligospermico un pH seminale di 8,1 quindi tendenzialmente un po' alcalino astenospermico motilità progressiva rapida 5% e 15% la lenta e anche una teratospermia media io avevo fatto fare questa indagine qui quindi vediamo che ci sono allora qui ci sono gli omega 3 gli omega 6 ok qui ci sono i trans ok gli omega 9 e qui poi ci sono i saturi qui per esempio quest'acido elairico che va bene questa qui è la rigna il range medio dove non si dovrebbe sforare era un soggetto che mangiava pochi fritti tanto per capirci perché l'acido elairico non è altro che la trasformazione dell'oleico in seguito all'aumento della temperatura quindi se un soggetto dovesse avere un elairico che arriva qui gli fai la domanda non mangi fritti buonanotte non è vero quindi non è assolutamente vero quindi questo test è significativo non solo per gli spermatozoi ma anche per quello che mangia un soggetto il lino elico qui era carente ma come vedete anche di omega 3 anche di omega 3 però quel poco omega 3 lui lo converte in DHA quindi vuol dire che tutto sommato lui non aveva aveva una sofferenza probabilmente di detossificazione di funzionalità epatica e poi aveva una carenza obiettiva di omega 3 quindi un'integrazione ci voleva a questo punto che cosa è successo nel rapporto epacido-arachidonico guardate cosa succedeva si trovava in uno stato pro-infiammatorio proprio sparato e poi l'indice omega 3 quindi a rischio anche cardiovascolare sempre quello di prima che è questo qua tre mesi regolazione alimentare in base alle caratteristiche quindi certi alimenti vanno un attimino controllati meglio integrazione a base di omega 3 soprattutto i di H trattamento antiossidante il pH seminale dopo è diventato a 7,8 e da 9 milioni siamo passati a 10 abbiamo risolto un fico secco però abbiamo migliorato un pochettino l'astenospermia migliorata la motilità e la teratozospermia questi sono dati obiettivi per cui non si dice che quello ha fecondato il giorno dopo che ha iniziato la terapia questo tramite terapia con olio algale a 640 mg gli americani danno d'ufficio 3 grammi al giorno di omega 3 in qualsiasi paziente che gli capiti per le mani che cerca un figlio senza magari badare a tutto quello che abbiamo visto prima e quindi questo criterio praticamente di approccio terapeutico di medicina integrata dalla riproduzione l'abbiamo reso operativa adesso a Brescia a Roma e a Napoli a breve si aprirà anche a Milano mi auguro dove verranno applicati proprio dei protocolli di diagnostica e quindi la coppia perché qui parliamo del maschietto ma il figlio ci fa in due quindi bisogna stare attenti a tutto quello che riguarda anche la donna e quindi una sensibilizzazione anche a livello ginecologico deve essere fatta quindi dare importanza a queste cose è chiaro che nella donna non possiamo fare la valutazione seminologica ricaderemo ancora sul marito e quindi nella donna quei dati li ricaviamo dal globulo rosso è inevitabile a breve stiamo cercando di riuscire a fare degli studi per quanto riguarda il liquido follicolare fare delle valutazioni sul liquido follicolare però siamo in fase embrionale noi questa volta e quindi il progetto è proprio l'applicazione di quello che è il metodo integrato per una visione One Heal e l'ottimizzazione per raggiungere l'ottimizzazione delle cure quindi non più dire a un paziente fai l'integrazione che fanno tutti facciamo un'integrazione che riguarda la tua persona per come sei messo per cosa ci hanno detto i tuoi spermatozoi per quello che mangi e non solo io devo credere a quello che tu mi dici che mangi perché i pazienti non ti dicono quello che mangi cercano sempre di nasconderle un po' le cosucce quelle indagini ci aiutano molto di più per commettere meno errori e quindi la fertilità non può come dire prescindere da un buon stato generale di salute e anche ambientale però sull'ambiente cosa facciamo? Sebastiana cosa facciamo sull'ambiente? Facciamo un fico secco le polvere sottili ci sono cosa facciamo? Chiudiamo come si fa? Come si fa? Come facciamo a non inquinare le acque? dalle mie parti il brisciano c'era la legionella sono morte delle persone ce ne sono in ospedale ricoverate 30 persone come facciamo? Sapete come facciamo? Cerchiamo di renderci conto che questi problemi esistono coalizziamoci ma non coalizziamo nel senso facciamo un gruppo cerchiamo di essere coscienti di trasferire ogni volta che abbiamo di fronte a noi un paziente teniamolo in un'ora e mezza a fargli un mazzo tanto per fargli capire che deve cambiare il lavoro deve partire da noi se non parte da noi allora perché bisogna valutare l'insieme e non solo l'organo specifico e quindi nasce questo protocollo dove il primo colloquio deve essere fatto da un ginecologo da un andrologo da un genetista da un nutrizionista e il secondo invece anche e non bisogna tralasciarlo psicologo perché ci sono gli aspetti psicologici che riguardano la coppia frequentemente e questi sono delle indagini che solitamente vengano richieste l'indagine lipidomica un pannello specifico per quanto riguarda i polimerofismi che riguardano sia il maschio che la femmina e una redoxomica fatta in modo adeguato che valuta anche carenze vitaminiche che sono molto importanti e qui sono i nostri tre laboratori che non sono laboratori ma sono tre studi tre centri che sono operativi a Brescia Roma e Napoli come dicevo a breve dovrebbe attivarsi anche a Milano ripeto in Veneto nelle Marche poi ci hanno chiesto di andare anche in Puglia ma adesso vediamo come facciamo a gestire il tutto il progetto Vita invece è un progetto legato ad Eco Food Fertility che è un progetto molto interessante che voi tutti sicuramente avrete sentito parlare dell'estrema importanza che ha il plasma seminale e qui chiudo Giorgio il plasma seminale come marche specifico per quanto riguarda la contaminazione dei metalli pesanti ormai il dottor Montano che ve ne parlerà oggi attraverso quel progetto si riesce a dimostrare che fare una valutazione quantitativa di contaminazione dei metalli pesanti del sangue ha un valore relativo se fatta nello stesso soggetto nel plano seminale e quindi capite tutti i riflessi negativi che la contaminazione dei metalli pesanti possono avere direttamente sulla funzione testicolare e quindi questo progetto Vita vuol dire sì ok Eco Food Fertility ci dice un sacco di cose che sono veramente strabilianti molto belle al punto tale che è stato premiato più volte adesso non vi sto a dire ve lo dirà lui eccetera ma questi soggetti analizzati da un punto di vista che sono peraltro selezionati quindi normospermici che non hanno vizi quindi che non fumano non bevano alcolici giusto Luigi dimmi se sbaglio a questo punto però da un punto di vista redoxomico un soggetto normale com'è ho definito normospermico non normale normospermico com'è da un punto di vista lipidomico com'è perché noi siamo abituati a vedere gli ammalati ma come facciamo a sapere un ammalato come correggerlo se lo sappiamo in termini percentuali come una persona sana ecco questo progetto si propone proprio questo cercare di capire sotto più aspetti redoxomico polimorfogenetico lipidomico eccetera un soggetto fertile normospermico di una fascia di età di 19-25 anni questo è quello che oggi accade e diciamo che la nostra cultura ci dice che il cibo spazzatura gli acidi grassi saturi eccessivi idrogenati zuccheri raffinati aumento della massa grassa inquinamento e stress e questo fa parte della cosiddetta civiltà civiltà società civile che la tutela della salute pubblica dovremmo noi essere fatta invece la malattia a volte è uguale al profitto e sappiamo di chi non bisognerebbe tentare di curare la parte di prima di aver curato il tutto qualche anno fa lo diceva qualcuno e forse era ora era un concetto da applicare a una medicina nuova però bisogna stare attenti anche a un'altra cosa ci vuole la volontà del cambiamento la volontà del cambiamento nei pazienti perché noi dobbiamo insegnare i pazienti che si guardino allo specchio perché se ognuno di noi non paziente ma ognuno di noi guardasse al di là dello specchio e facesse una domanda al di là che cosa devo fare per star meglio quello ti risponde il problema è che noi non lo ascoltiamo perché molte volte ci fa comodo invece dobbiamo educare i pazienti a migliorare il proprio stile di vita non ascoltare nei limiti del possibile le radio e le televisioni perché ci stanno rovinando e internet e quindi una medicina per i nuovi pazienti e quindi grazie per l'attenzione e per essere state qui oggi grazie